Pyramid Aesir, activated. 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 Grazie a tutti. 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 No, non è pronto. Grazie a tutti. 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 Va bene. Ora non ci resta che collegarci alla rete. Grazie a tutti. È bello fare davvero parte delle UCA. Siamo rimasti letteralmente isolati per troppo tempo. Non vedo l'ora di collegarmi di nuovo con il QG. Ci vorrà un po' di tempo per sistemare questo posto, ma mi sento più carico che mai. Non deluderemo il nostro paese. Grazie, Sam. E buona fortuna. Non che tu ne abbia bisogno. Raggiungerai la costa ovest in un lampo. Bravo, Sam. Poi dovrai estendere la rete al centro logistico a nord della città. E ora sarebbe il momento perfetto per farlo. Hanno appena inviato un SOS. Stiamo ancora ricevendo informazioni, ma sembra che ci sia stato un incidente e che i feriti abbiano bisogno d'aiuto. Controlla il terminale per i dettagli. Grazie a tutti.